Io faccio la differenza perché a me piace nel mio lavoro avere un set molto, oserei dire, quasi anarchico perché ognuno può dire la sua e a me piace sentire l'opinione di chiunque e questo si traduce nel lavorare molto con gli attori, ascoltarli molto ascoltare il suggerimento dal macchinista, dal scenografo, dal costumista e poi però essere molto me stesso nel metterlo in pratica. Ho scelto Make the Difference perché sicuramente cercare di trasmettere e dare passione ai giovani per dei progetti, per quello che vogliono realizzare è una cosa che è importante per tutti.